Sì, in settimana abbiamo lavorato molto, soprattutto a Muro, per prepararci contro questa squadra e è andato bene, ci sono stati frutti, quindi sono contenta. È un periodo buono per noi dopo la sconfitta contro Scandicci, ci siamo riprese mercoledì e oggi con questo 3-0 che ci porta nuovamente al primo posto, quindi dobbiamo mantenere questa posizione e far bene sempre, da mercoledì fino a...